Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Per i prissino urgente della pavimentazione ci sono rallentamenti in A1 tra Firenze Scandici e Barberino in direzione Bologna e in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Ricordiamo l'obbligo di catene da neve o dotazione invernale a bordo su autostrade e strade a lunga percorrenza. I treni a causa delle condizioni meteo le percorrenze sulla linea Siena Grosseto sono sospese per la giornata di oggi e per accertamenti dell'autorità giudiziaria nella stazione di Sarzana la circolazione è sospesa sulla linea Pisa-La Spezia. Per avverse condizioni meteo i collegamenti con le isole potrebbero subire cancellazioni e variazioni. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e i comuni di Firenze. Buon viaggio!